Benvenuto a un'anteprima esclusiva di un magnifico progetto di design d'interni firmato Rifra, situato nel cuore della Francia. Questo progetto fonde senza sforzo il lusso contemporaneo con un'eleganza senza tempo. Progettati da Rifra Lab, lo studio di design interno di Rifra, gli interni riflettono un'estetica sofisticata e moderna che completa la grandiosità architettonica della villa. Al centro della casa troviamo una cucina minimalista ed elegante. creata meticolosamente da Rifra. L'isola in marmo naturale contrasta con le ante opache, trovando il perfetto equilibrio tra texture e colore. Questo spazio culinario raffinato è progettato per fondere funzionalità ed eleganza in modo armonioso. Il soggiorno è arricchito da una boiserie Rifra con una libreria integrata che unisce il design moderno agli elementi architettonici classici francesi. L'illuminazione soffusa e integrata esalta l'atmosfera calma e sofisticata, creando un ambiente elegante e sereno. La cabina armadio prosegue il racconto del lusso, con finiture di alta qualità e un design minimalista. Pratica e raffinata, offre uno spazio personale organizzato e senza soluzione di continuità. Infine, il bagno padronale è un vero santuario, con superfici in pietra liscia e illuminazione integrata. La vasca freestanding è il fulcro della stanza, accostata a mobili minimalisti per creare il rifugio perfetto per il relax. Ogni elemento di questo progetto, Rifra, riflette una dedizione al lusso moderno e al design senza tempo, su misura per i clienti più esigenti. Gli interni sottolineano l'impegno di Rifra per la perfezione, dove ogni dettaglio migliora l'estetica complessiva e arricchisce l'esperienza abitativa. Rifra, kitchens and beds, direct from Milano.